Siamo a Fico e siamo venuti qua con tanta voglia di raccontare dalla materia prima alla birra, quindi dalla terra alla birra, o ancora di più dalla terra al bicchiere, perché abbiamo anche dei punti in cui andiamo a somministrare, quindi a spillare la birra. All'interno che cosa facciamo? Facciamo produzione, facciamo didattica, portiamo le persone a capire meglio che la birra come il vino si deve arare, si deve andare a coltivare, raccogliere, trasformare le materie prime e poi arrivare alla bevanda, facendo toccare con mano gli ingredienti, il malto, gli altri cereali, il luppolo, le spezie. E tutto questo penso nel posto più incredibile che si possa immaginare, un luogo pazzesco dove uniti tutti i laboratori e tutta gente che con lo stesso spirito racconta come dalla terra si arriva all'orgoglio dell'Italia. Vi aspettiamo, viva la birra italiana! Grazie a tutti!